namaste buongiorno a tutti sono francesco benvenuti a questo episodio delle testimonianze narrate oggi una testimonianza molto particolare di un motociclista professionale vi presentiamo quindi lorenzo salvadori classe 93 di cesena in pochi anni è passato da figura promettente il motociclismo italiano ha solido valore nelle massime classi mondiali dalle mini moto alle 125 super stock super bike moto e le moto da corse elettriche per infine approdare alla classe regina la moto gp nel 2020 dove è tuttora il collaudatore principale per la squadra aprilia racing lorenzo usa i cerotti fototerapeutici della life wave nello specifico utilizza i cerotti energy enhancer che si vedono nella foto e x39 o eon non si sa bene quello che ha in mezzo alla fronte poi ingrandirò la foto per aumentare la concentrazione mentale e l'energia fisica per poter ottenere prestazioni superiori nelle competizioni e quindi ottenere risultati incredibili sa che i cerotti fototerapeutici life wave funzionano e migliorano le sue prestazioni complimenti al nostro lorenzo ingrandisco anche una foto eccola qua allora in questa foto qui in basso a sinistra se posso ingrandire ulteriormente voilà non è rimasto molto bene nella foto poverino chiedo scusa se stai guardando questa tua testimonianza però per far vedere i cerotti allora si vede sulla tempia destra energy enhancer come vedete nella foto in basso a destra è un cerotto doppio quindi c'è un lato un cerotto bianco e uno marrone il bianco va sempre a destra il cerotto marrone va sempre a sinistra quindi sulla sua tempia destra vediamo il cerotto energy enhancer per il lato destro della testa e quindi a sinistra anche se non ci vede dovrebbe esserci il cerotto marrone invece in mezzo alla fronte che è un punto che stimola il cervello in vari modi molto probabilmente sta usando o x39 che il cerotto principale dell'azienda dal 2020 in avanti perché è il cerotto che riattiva le nostre cellule staminali stesse oppure eon che è un antinfiammatorio ed antidolorifico o anche potrebbe anche essere carnosine che ha un effetto spiccato sul cervello quindi o x39 o eon o carnosine col 95 per cento di certezza perfetto sono molto lieto di vedere questa testimonianza le testimonianze dei vip sono importanti anche perché tipicamente i vip hanno squadre di persone attorno che filtrano molto soprattutto i prodotti di benessere per non finire insomma in un prodotto che magari per non finire con un prodotto che magari contro producenti quindi è molto bello vedere questa testimonianza di un atleta che lavora agli apici della capacità umana in questo caso del motociclismo spero che continui ad avere grandi successi grazie a tutti dell'attenzione ci vediamo alla prossima puntata grazie mille grazie